Non può esserci una ricerca che è completamente avulsa dall'offerta rispetto a quelli che sono i bisogni dei pazienti. E' questa la meta che si intende raggiungere attraverso la costituzione di un'azienda unica a Catanzaro. Contemperare le esigenze di ricerca universitaria alla vocazione tipicamente assistenziale ospedaliera eliminando sprechi e inefficienze. All'interno della struttura di ricerca di neuroscienze noi si abbia a disposizione una risonanza magnetica 3 Tesla con anello PET integrato e scusate se poco. Si tratta di una tecnologia all'avanguardia in grado di fare diagnosi accuratissime soprattutto per quelle che sono le patologie oncologiche che vedono i nostri pazienti calabresi sempre emigrare in regioni limitrofe. E' questo invece ciò che si intende per sanità con parti stagni. I pazienti che potrebbero comodamente farsi curare in Calabria sono invece costretti ad emigrare pur disponendo e pagando apparecchiature di ultima generazione e divenendo business per le regioni del centro nord. Il fibro scan che è sottutilizzato e che è sempre di proprietà dell'università oppure ancora la diagnostica di terzo livello che riguarda la microbiologia più avanzata per quanto riguarda le resistenze di alcuni virus come l'HCV o l'HIV che pur in presenza di strumentazione adeguata attualmente non vengono offerte ai cittadini calabresi. Luana Costa per la CNews 24.